Ultimi preparativi prima della cerimonia di premiazione qui al premio d'annunzio e siamo in compagnia dello chef Silvano Pinti del ristorante da Silvano da Francavilla al mare che è uno dei nostri principali sponsor della nostra manifestazione e che è venuto qui a trovarci Silvano volevamo chiederle la cucina e l'arte, un binomio interessante e un binomio curioso ce ne vuole parlare? Sì parliamo di un binomio, parliamo di una semplicità, di portare una cultura di arte quindi parliamo che cucina comunque è paragonabile a un'arte normale quindi parliamo di arte di pittura e arte di cucina quindi parliamo di due cose che possono andare insieme Abbiamo visto infatti che lei dà anche una possibilità a tanti artisti di esporre nel suo locale e questo dà loro la possibilità anche di raccogliere un pubblico che magari non frequenta i musei però davanti a un buon piatto e davanti a un buon bicchiere di vino ha la possibilità di gustare anche la buona arte Eh sì, si porta la compagnia perché a me non piace entrare dentro un ristorante è essere il solito ristorante che non c'è nulla di familiarità non c'è nulla di casalingo, non c'è nulla di stare insieme per me l'arte è proprio questa, essere tutta una cosa insieme valorizzare tutto ciò che esiste in giro cioè far vedere un quadro non è detto che deve stare solo in un museo può stare in casa come può stare dentro un ristorante sperando che altri capiscano proprio questo lavoro da fare cioè far capire che l'arte è molto importante oppure anche dei principi che ci sono che sono principi proprio di onestà di un artista che vuol tirare fuori l'anima o l'indone che ha E in quest'ottica sono già alcuni anni che lei dà il suo patrocinio al premio d'annunzio cosa rappresenta per lei questa manifestazione? Ma è molto importante, è un ritrovo come dico, è un ritrovo degli artisti ed è molto importante perché anche il signor Monier si lavora molto per organizzare tutto ciò non è una cosa semplice, quindi comunque è una cosa importante da poter portare ma non mi viene la parola Insomma sia a Francavilla che nel nostro territorio E' molto importante che dopo non è mai, non c'è, come il Monier non esiste come una mossa come questa, in giro E noi la ringraziamo a nome di tutti gli amanti dei cultori dell'arte e quali auguriamo buon'arte e buon appetito Va bene, vi rispetto sempre, braccia aperte e ricordatevi sono andato da Silvano Grazie